Gentili telespettatori, buona giornata. Parliamo delle giuste riflessioni di Matteo Salvini su un tema di cui io parlo spesso. Dice così il capo della Lega, pensate per un attimo se non ci fosse la Lega al governo. Sbarchi, tasse, patrimoniale, tassa di successione, aumento del limo. Perché alcuni a sinistra vivono di rancori, gelosia, invidia sociale. Se uno ha successo perché ha una bella casa, una bella famiglia, perché si è fatto il mazzo, allora bisogna punirlo. Se uno sta meglio, dobbiamo farlo stare peggio, così stiamo tutti male e viviamo insieme da compagni. Così Salvini intervenendo a Novara all'evento per la campagna elettorale per la riconferma di Alessandro Canello come primo cittadino della città. Il leader della Lega picchia duro contro i compagni. Allora, io spesso ho parlato dell'invidia sociale, rancore, gelosia. È proprio come dice Salvini. Intanto voi sapete che l'invidia è un qualcosa che è nell'essere umano. C'è chi ne ha poca, c'è chi ne ha pochina, chi media, chi tanta. Ci sono poi dei professori di invidia, delle vere e proprie autorità sull'invidia, dei veri professionisti invidiosi. Io ne ho conosciuti tanti. Ho conosciuto dei grandi invidiosi. Ne conosco due grandissimi invidiosi che... tre, tre, tre... quattro. Ecco, ci penso quattro grandissimi invidiosi nella mia vita, proprio dei professionisti. L'invidia di solito è intorno a te. Non come la banca intorno a te, ma l'invidia è intorno a te. L'invidia nasce tra pari. Quelli che fanno lo stesso lavoro, quelli che sono della stessa famiglia, quelli che sono del stesso circolo di amicizie. Perché tu sì o no? Ecco, l'invidia è perché tu sì o no. Matteo Salvini dice bene. I tuoi simili, quelli che fanno il tuo stesso lavoro, quelli che sono della tua stessa famiglia. Perché tu hai una bella casa e io no? Perché tu hai una bella famiglia e io no? Perché tu sei riuscito a fare qualcosa? Perché tu stai meglio di me? Ricordatevi che l'invidioso intanto non è consapevole di essere invidioso. L'invidioso non è consapevole di essere invidioso, pensa che siano gli altri. L'invidioso è quella persona che è felice per i tuoi problemi, diventa euforico. Un grande invidioso, lo individuate subito in questo modo. Se voi gli raccontate di un vostro problema, l'invidioso diventa improvvisamente quasi euforico, non ci sta più nella pelle. Allora vi comincia a consigliare, ma con un fare euforico perché è contento che voi state peggio di lui. Quindi l'euforico è triste per i vostri successi ed è felice per i vostri problemi. Se voi raccontate a un grande invidioso guarda o mi hanno promosso al lavoro, l'invidioso si rattrista, è sempre più triste perché voi sempre di più in alto e lui non riesce a competere. E poi c'è l'invidia sociale di cui parla Salvini. Alcuni a sinistra vivono di rancori, gelosia e invidia sociale. Bisogna punire chi ha una bella casa, una bella famiglia, chi è riuscito in qualcosa. Se uno sta meglio dobbiamo farlo stare peggio, così stiamo tutti male e viviamo insieme da compagni. Bella questa frase, non si può sempre dar contro al povero Matteo Salvini. In fondo guardate che è una brava persona, è una brava persona. Non è una cattiva persona, ci mancherebbe altro. Noi quando facciamo le critiche a Salvini sono a Salvini politico, mai a Matteo persona. A Salvini politico, mai alla persona. Ricordatevelo bene. L'invidia sociale che cos'è? L'invidia sociale non è quell'invidia che vi raccontavo prima, quella che è intorno a te. Naturalmente Matteo Salvini avrà anche lui la sua invidia intorno, ma sarà ben nascosta. Perché quelli che stanno intorno a Salvini, intorno a Meloni, intorno a Letta, le persone che hanno un certo livello, quelle persone lì che sono invidiose, però in Salvini, in Meloni, in Letta, in Conte vedono un'opportunità. Questo potrebbe farmi ministro, potrebbe farmi sottosegretario, potrebbe farmi fare il capo di qui, il capo di là, il coordinatore nazionale. Quindi gli invidiosi di cui si attorniano stanno zitti e con tanta ipocrisia sperano di ottenere da questi capi politici soldi e potere. Mentre l'invidia sociale è l'invidia di chi non ti conosce, di chi non ti ha mai visto, di chi non ha mai parlato con te. L'invidia sociale si forma principalmente sui social, si annida, si unisce. Prima dei social l'invidia sociale si poteva coagulare al bar, ma poco, ma poco, ma poco. L'invidia sociale nasce con i social, sociale, l'invidia social, dove tante persone che non si conoscono cominciano a invidiare quello, oggi quello, domani quell'altro, che non importa, l'importante è invidiare, l'importante è odiare. Le persone si uniscono e cominciano con quello. Dunque queste persone che non si conoscono si uniscono contro una persona che non conoscono, che però secondo loro il problema è che ha avuto successo. Viviamo nella società del successo, dove sei qualcuno se hai il BMW, sei qualcuno se hai la Mercedes, la Ferrari, sei qualcuno se sei capo di qualcosa, no? Non a caso tutte le aziende quando cercano lavoro, tutti i manager, diciamo, ma quello è un lavoro per fare le fotocopie. Copy manager. Dici, come? Eh sì. Per fare le fotocopie ci vuole responsabilità, perché il toner si consuma. Dici, ah, allora non è un lavoro semplice, no, noi cerchiamo un manager della fotocopiatrice. Ah, non avevo capito, allora sono un manager, sì. Ah, lo posso dire agli amici, a mia mamma, a mio papà, lo posso dire al nonno, che possono essere orgogliosi di me, sono diventato un manager. Ecco, viviamo in questa società, dove è più il mostrato che realmente quello che si è. Bisogna costruirsi su Facebook le pose, no? È un po' come quell'influencer che per il suo pubblico va in aereo, in classe economica, ma per i suoi seguitori si alza un attimo, va davanti dove c'è la prima classe e si mette in pose, si fa il selfie e lo mette per i suoi seguitori, perché una persona, un influencer che influenza l'opinione pubblica, che ha dei seguitori, che fa? Va in classe economica. Allora si è fatta la foto in prima classe, poi scoperta da qualcuno che gli ha fatto la foto in economy insieme agli altri, dice no, no, guardate questa che racconta balle. Quindi bisogna mostrare di avere, di avere, di avere soldi, potere, di essere conosciuti, di poter andare negli alberghi di lusso, avere la macchina di lusso, la barca che magari non è la tua, hai fatto solo il selfie facendo finta di salire sulla barca che è di un milionario che l'ha ancorata lì. Ecco, viviamo nella società dell'apparenza e l'invidia sociale è quel coaugulo di persone che odiano qualcuno, ma realmente non per quello che dice, magari non sanno neanche chi è, solo è una persona che ha un certo numero di seguitori, la dobbiamo odiare perché la seguono, addirittura guadagna, addirittura guadagna, e lì l'odio diventa incommensurabile. Ecco, l'invidia sociale, rancore, gelosia verso persone che non si sono mai conosciute, non si sono mai viste, le ho viste solo sui social, le ho viste nei film, ma non l'ho mai... però ti odiano perché? Perché tu rappresenti un qualcosa che loro sognano ma non possono riuscire ad avere, cioè il successo. Il successo oggi è avere visibilità principalmente. Non avete visto che su questi nuovi social come TikTok ci sono milioni di persone che si dimenano per farsi vedere? Si dimenano! Si dimenano! Provate ad andare su TikTok, io l'ho abbandonato, pensavo di mettere dei video lì, ma mi sono trovato in mezzo a una società di gente che si dimena per speriamo che divento qualcuno facendo così. È una roba da mettersi le mani nei capelli, ma quella è la società. Ci sono centinaia di milioni di ragazzini che si dimenano per essere qualcuno, per avere i like, le condivisioni e questo provoca un'invidia sociale tremenda verso quelli che poi nel mucchio ci riescono a distinguersi. Grazie a tutti quanti per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata.